Salah Abdeslam e Mohamed Abrini sono i due ricercati nell'inchiesta sugli attentati di Parigi. Del primo si è parlato molto, di Abrini meno, anche perché il suo ruolo è emerso solo in una seconda fase. Abrini compare in un filmato insieme a Salah Abdeslam, l'uomo fungito dal Bataclan, con l'auto noleggiata in Belgio e poi ritrovata dopo l'attentato. L'auto è stata filmata a un distributore di Ressons sur Maz, lungo il percorso tra Bruxelles e Parigi, due giorni prima dell'attentato. Nella capitale belga, più precisamente nel quartiere di Möllenbeek, abitavano sia Abdeslam che Abrini, amici di infanzia, come conferma anche la madre di Abrini. La donna ha lanciato un appello al figlio perché si costituisca, lo descrive come un ragazzo normale, beneducato, mai stato vicino al radicalismo. Dice che la sera dell'attentato di Parigi lui era a Bruxelles e vi sono alcune testimonianze, è conferma.